Salvini, oltre 30 miliardi vara il governo per far ripartire l'Italia, siete convinti, riparti? Una manovra che è un furto, una buffonata è una manovra da mare nostrum, la barca a fondo, è una manovra da schettino, forse avrebbe fatta meglio schettino. Paga chi ha dei risparmi sul conto corrente in banca, pagano i comuni e le regioni virtuose che saranno costrette ad aumentare i ticket e a tagliare treni, autobus e posti negli asili e nelle scuole. Paga chi amministra meglio e non pagano quelli che hanno evaso 98 miliardi gestendo le slot machine, non paga la prostituzione che continua a non essere tassata, pagano gli imprenditori che per colpa delle sanzioni contro la Russia stanno perdendo migliaia di posti di lavoro. Quindi una manovra alla schettino.